weaver ecco gli anelli ha resistito oh sì puoi dirlo forte d'accordo amico grazie di tutto ci si vede ciao dico come ti va kaleb ti faccio il pieno come la vedi ok alla prossima di che di che si dice sì perfetto bene mi farai diventare trilliardario ah spendacione ah finalmente si ragiona sì ok ci vediamo dopo dick ok 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 ok